Grazie Edoardo, grazie Lega Ambiente. Non è un ringraziamento formale ma è proprio nel merito perché il rapporto che avete scritto è veramente molto interessante. Appunto me lo sono letto tutto e c'erano molte informazioni veramente importanti. Preciso che il monopattino elettrico che è un oggettino che siamo abituati a vedere ai ragazzini è invece un bellissimo strumento di spostamento che con motorini elettrici estremamente piccoli riesce a spingere come un dannato e in realtà in Italia si potrebbe anche utilizzare perché viene considerato un ciclomotore solo che dovrebbe avere la targa e dovrebbe avere anche le luci di posizione e gli anabaglianti quindi decisamente non ci siamo il codice stradale va cambiato. Al di là della battuta io non lo so se saremo maggioranza o opposizione sta di fatto che questo governo nei prossimi giorni dovrà pronunciarsi in merito a quello che sono gli obiettivi 2030 del Second Clean Mobility Package dell'Unione Europea e questa è una partita importantissima perché come sapete il Parlamento Europeo ha proposto il 35% di decrescita, di abbassamento delle emissioni della CO2, dei grammi di CO2 per chilometro nei veicoli e invece la Commissione Consiglio d'Europa vuole portarlo al 30%. Portare al 30% significa ridurre il tasso di miglioramento della diminuzione delle emissioni. Adesso con la normativa 2020 i veicoli devono arrivare a 95 grammi di CO2 emessa per chilometro e questo quindi ha prefigurato negli anni passati un tasso di discesa con una certa pendenza. Accettare il 30% finale al 2030 significa ridurre questa velocità di pulizia, di miglioramento emissivo nei veicoli. Quindi è estremamente importante che questo governo, e sottolineo perché la decisione andrà presa a brevissimo, che questo governo appoggi la proposta del Parlamento, ieri si è espresso anche proprio Cagnete su questo, ha detto il 30% è troppo poco, va assolutamente alzato. E tra l'altro un altro allarme che lancio immediatamente è quello sui test, sui test di controllo delle emissioni delle automobili. Voi sapete tutti che nel 2024 verrà cambiato il test, non più quello attuale ma quello successivo, che di per sé è un miglioramento, è un miglioramento però attenzione perché anche il nuovo test ha già delle lacune in partenza, ha già dei buchi in partenza soprattutto per i veicoli ibridi che saranno, volente o non volente, saranno una grossa fetta delle prossime auto che verranno commercializzate e quindi rischiamo di ripetere un dieselgate fra qualche anno, nel senso di trovarci con uno scostamento tra quelle che sono i test e poi effettivamente la realtà su strada. Sapete benissimo che con tutti gli accrocchi utilizzati dalle case costruttrici che portavano l'automobile con le gomme super gonfie, la portavano senza le batterie, la portavano con l'aria condizionata spenta eccetera eccetera, riuscivano a spuntare dei valori che erano dal 30 all'80% più bassi rispetto a quello che poi erano effettivamente le misurazioni, il consumo su strada. Quindi ribadisco il governo italiano in questi giorni è portato a esprimersi su questa questione importantissima, è fondamentale che tutti noi spingiamo affinché il target sia almeno il 35% e non il 30%. Quindi ancio la palla a quelli che sono i partiti attualmente al governo. Sul codice della strada, l'ha già detto Edoardo, andrà cambiato per permettere l'utilizzo di tutti questi nuovi modelli di spostamento elettrico. In generale naturalmente la politica dovrà approcciare, dovrà preparare un quadro di incentivi, di politiche di sostegno. Noi purtroppo siamo gli ultimi, siamo gli ultimi a livello di sostegno delle auto elettriche, abbiamo un numero di auto elettriche che è 10 volte inferiore alla media europea del settore. Tra l'altro sapete benissimo abbiamo una industria nazionale costruttrice di automobili che negli ultimi tempi ha avuto un atteggiamento non so se dire schizofrenico ma comunque estremamente altalenante perché le dichiarazioni dell'amministratore delegato sono state estremamente diversificate negli ultimi periodi. Penso che molti di voi avranno visto la trasmissione di report in cui l'amministratore diceva che un'auto a metano inquina di meno rispetto a un'auto elettrica. Io sono andato a vedere il rapporto di gennaio, lo studio di gennaio del World Economic Forum che se non sbaglio ha sede in Svizzera e quindi Macchione dovrebbe conoscerla piuttosto bene e lo studio riporta verso la fine l'analisi a tecnologia attuale con veicoli e con il mix produttivo attuale statunitense, riporta i dati full cycle di emissioni e dice che l'auto elettrica inquina è il 65% in meno dell'auto con motore a scoppio. Per cui penso che questo dovrebbe mettere la parola fine sulle dichiarazioni dei nostri, dei nostri, dei costruttori ed automobili e passare definitivamente all'elettrico. Voglio ricordare che un'altra cosa su cui dobbiamo stare molto attenti è la concretizzazione da parte del governo e dell'autorità di quello che è stato il nostro emendamento che è passato sul vehicle to grid. Qui penso che tutti gli interlocutori siano esperti, sapete perfettamente quanto importante sia il vehicle to grid. Siamo riusciti a far passare l'emendamento, adesso il governo dalla data della stabilità ha sei mesi di tempo con l'autorità per definire le regole di partecipazione ai mercati elettrici per quanto riguarda la tecnologia V2G e definire soprattutto le tariffe per il consumo, per la ricarica dei veicoli. Sapete perfettamente che in questo momento abbiamo questo grosso ostacolo che fare la ricarica nelle colonnine ti costa praticamente il doppio rispetto al prezzo al prezzo elettrico. Edoardo io quanto tempo ho? Perché io ho 15 pagine di appunti qua. Una cosa importantissima perché è già attuale, è già presente nel codice degli appalti è già presente la possibilità di valorizzare criteri ambientali per definire la classifica e quindi per fare la graduatoria in quelli che sarà poi l'aggiudicazione dei lavori. Quindi questa è una cosa estremamente importante che è già attuale e deve essere semplicemente applicata. Sul clima non vi dico perché siete perfettamente a corrente. Ecco una cosa chiaramente politica e quindi qui abbiamo anche i colleghi. Efficienza energetica, detrazione fiscale, sapete perfettamente che da anni proponiamo il meccanismo dell'eco bonus, quindi 65% di detrazione fiscale. A questo punto mi domando e vi domando ma l'auto elettrica la vogliamo considerare efficientemente energetico? Nel momento che passiamo da un'efficienza del 30% quando va bene all'80% vogliamo considerare efficientemente energetico? Facciamoci un ragionamento perché comunque qualche sistema di incentivo dobbiamo assolutamente trovarlo. Della commissione ho detto una cosa molto interessante che è stata riportata nel rapporto di lega ambiente. Come sapete Cina e 10 stati degli Stati Uniti hanno indicato degli obiettivi obbligatori di vendita di auto elettriche nel loro mercato. Quindi la Cina per esempio 8% entro il 2020, l'8% delle macchine che ogni costruttore deve vendere devono essere elettriche. Ecco se lo facessimo anche in Europa daremmo un enorme stimolo alle case costruttrici di costruire in Europa. Di costruire in Europa perché questa è una cosa fondamentale, non dobbiamo rischiare e noi come movimento abbiamo tanta paura che stiamo effettivamente rischiando la delocalizzazione come è avvenuto per le rinnovabili che abbiamo acquistato i pannelli fotovoltaici quasi tutti da Cina e qualcosa dalla Germania e non succede la stessa cosa per tutto il settore automotive. Sapete perfettamente abbiamo 160.000 imprese italiane che sono in qualche titolo in estate nel circuito dell'automotive italiano, 800.000 dipendenti complessivi, chiaramente molte di queste si stanno già da loro stesse spostando verso la filiera elettrica ma sarebbe molto meglio se la politica italiana ed europea desse delle indicazioni precise e una di queste potrebbe essere un'indicazione di target obbligatori come hanno fatto Cina e Stati Uniti. Altra cosa a cui porre attenzione nel presente è la DAFI, la DAFI nel normare le colonnine pone un ostacolo secondo noi, più che un ostacolo fa un favore all'oligopolio, fa un favore all'oligopolio perché pone dei vincoli a carattere nazionale nel senso che dice tu mi puoi installare colonnine elettriche ma lo devi fare in ambito nazionale e quindi taglia fuori quelle che potrebbero essere le realtà locali che magari fare un'offerta non per tutto il territorio italiano. Altra cosa simpatica che avevate messo nel vostro report è che non sapevo effettivamente che fino al 2000 l'Italia aveva il record dei veicoli elettrici. Aveva il record dei veicoli elettrici fino al 2000 e invece adesso come ho detto a livello di autovetture siamo dieci volte sotto la media europea. Ieri ero in GSE che ha fatto un convegno sulla Sen, la Sen è decisamente troppo debole per quanto riguarda gli obiettivi di mobilità elettrica quindi questa è un'altra cosa che andrà pesantemente rivista, ci vogliono degli obiettivi decisamente più ambiziosi, ci vogliono in generale per le rinnovabili, per tutto il comparto delle rinnovabili ma anche sulla mobilità elettrica ha avuto un atteggiamento estremamente prudente quindi è una cosa essenziale che andrà assolutamente rivista al rialzo. La mobilità sostenibile chiaramente non è solo mobilità elettrica ma penso che tra ieri e oggi l'abbiate detto in tutte le salse, lo ribadisco anch'io, ci vuole moltissima più mobilità pubblica, TPL, trasporto pubblico locale, ovviamente con vettore elettrico che sia il filobus, che sia tram, che sia anche gli autobus elettrici, la Cina ne ha 190.000 di autobus elettrici, se facciamo la proporzione la Cina ha 15 volte più popolazione dell'Italia, 20 volte di più, dovremmo averne un numero proporzionale invece siamo estremamente indietro. Dobbiamo assolutamente alzare questi target più mobilità elettrica, più sharing, più condivisione, più mobilità leggera. Più mobilità leggera, e chiudo qui, altro dato interessantissimo, Copenaghen, 62% di persone che vanno al lavoro e a scuola con bici e a piedi e agli incroci hanno la precedenza sulle automobili. Ecco, magari non arriveremo a questo estremo però decisamente dobbiamo orientarci, vi faccio questo. Grazie.